Dopo la rottura degli argini del fiume Foglia sono partiti in queste ore i primi interventi di sistemazione per ricostruire le parti crollate. L'area attorno al casello autostradale è uno dei due punti in cui il fiume è esondato ed immediato è stato il presidio sul posto da parte della protezione civile che sta analizzando la tenuta della cassa di espansione costruita tre anni fa. Sopralluogo i partiti già nelle ore immediatamente successive al forte maltempo che ha colpito la provincia pesarese e che ora si sta intensificando per cercare di valutare cosa ha funzionato e cosa no. Lavori di manutenzione partiti a fianco del letto del Foglia nel tratto tra strada della Fornace Vecchia e strada dei Pioppi con tempistiche di risoluzione degli argini tra i 7 e i 10 giorni circa. A fianco del fiume dell'autostrada nei pressi del galoppatoio delle Giacche Verdi enorme è stata la quantità d'acqua che si è riversata nell'area naturale ma in questa circostanza non è stato il fiume a causare l'allagamento. Episodio che si presenta frequentemente vista la bassa elevazione e la tipografia piatta rispetto al terreno che circonda l'intera area. L'abbondante quantità di pioggia caduta tra venerdì e lunedì scorso ha rappresentato un bel banco di prova per l'area di laminazione costruita proprio per contenere la portata d'acqua del fiume in piena. Risultato tutto sommato positivo visto che i guai peggiori sono stati evitati. Ciò che non è stato evitato è invece la portata d'acqua arrivata da alcuni affluenti del Foglia finendo per inondare il terreno urbanizzato circostante. Analisi che sono ancora in corso ma la cassa di espansione dai primi risultati sembra aver limitato danni più ingenti ma ciò che emerge è che di area di laminazione una non basta. Della stessa linea di pensiero è l'assessore regionale Aguzzi che ieri ha ribadito l'impegno sul proseguimento di questo tipo di interventi. A Senigallia sono già partiti i lavori mentre a Pesaro ad altezza della chiusura di Ginestreto spetta al Comune far partire la prima tranche di lavori e alla Regione la seconda parte.